ciao a tutti carissimi amici amiche parlo con la mascherina perché oggi 9 febbraio e ancora siamo obbligati a portarla anche all'aperto è un po che non faccio video è un po che non faccio video perché allora è niente di grave ho avuto un raffreddore fortissimo e tutti dicono ma raffreddore non è nulla non è nulla e ho fatto il test per vedere se ero positiva all'omicrono altro no un raffreddore invernale come sapete io ho detesto l'inverno perché detesto il freddo ecco e oggi fa più caldo c'è un bel sole ho messo questo mio cappottino cappottino vestaglia lungo e comprato da zara qualche anno fa però l'ho sfruttato poco allora mi son detta cavolo voglio metterlo per cui ho messo un vestitino questo vestitino ma è questa collana che avete visto forse in qualche video questo vestitino che ho preso da zara da zara qualche tempo fa e niente quindi anche il cappottino di zara e sotto è un bel maglione lungo 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 è pesante allora sono stata da caddis e ho comprato qualcosina niente di che le solite cose finito di lavorare adesso sono le 11 passate e adesso vado in macchina e vi mostro cosa ho comprato dunque ecco lì che bello scenario è quando c'è il sole è tutta un'altra è tutta un'altra cosa poi andrò alle poste a fare l'abbonamento alla rivista teosofica italiana e niente così mi godrò un po questo sole d'accordo entro in macchina allora carissimi e carissime col sole in faccia ecco qui è bello cercherò di farvi vedere cosa ho preso da caddis allora cominciamo poche cosine ma mi servivano allora la mia solita dentura che è questa che uso adesso questo biondo questo biondo l'ho provato anche a prenderlo un po più chiaro però mi trovo bene con questo qui quindi questo biondo medio possiamo chiamarlo così poi il chief questo qui era in offerta vedete il no scusate l'isoform ecco perché per pulire il bagno spesso e volentieri uso il chief però il chief è meglio per i lavelli della cucina per le superfici in acciaio invece per la ceramica del bagno mi trovo meglio con l'isoform era in offerta un euro e 49 poi poi ho preso questa qui intanto che sto consumando una collistar una collistar notte che uso anche di giorno perché è l'unica che ho in questo in questo periodo di creme insomma efficaci perché ho finito le creme quelle quelle più tosse quindi sto usando la collistar notte che mi ha regalato mia figlia per natale le ha sbagliato doveva comprare al giorno ma la comprata notte ma va bene lo stesso la sto usando notte giorno perché d'altra parte col freddo che fa anche una crema notte messa la mattina sono uscita di casa alle sette e mezza erano sui meno 5 meno 7 gradi vabbè insomma alla fine insomma fa il suo effetto fa il suo effetto scusate il naso rosso sono ancora raffreddata e fa freddo quindi ho preso questa qui perché ho visto che costava poco è nuova è uscita da poco questo doppio lifting venus non l'ho mai provata ecco dico la verità mai provata e vi saprò poi dire come mi sono trovata con questo doppio lifting venus giorno c'era anche notte elastine collagene rughe profonde vediamo un po ecco vediamo un po poi poi ho preso questo questo siero il siero viso che metto sempre sotto la crema idratante e olaz levigante all'istante siero che ho già usato che ho già usato altre volte e mi ho trovata benissimo devo dire che mi sono trovata benissimo ecco qui poi ho preso ancora cos'altro ho preso a filler venus ecco questo anti rughe occhi e labbra occhi non gran bisogno ma sole vedete occhi non avrei un gran bisogno anche le pappe perché cadenti e dunque e quindi labbra occhi non bisogno labbra un po meno però voglio provarlo è nuovo come prodotto non costava tanto poi vi faccio vedere lo scontrino filler venus anti rughe occhi e labbra vediamo la scatolina com'è perché a me deve piacere anche la scatolina e io come già ho detto qui per aprirla ce ne vuole e mi piacciono più i contenitori scatolina che non e che non i tubi come già ho detto sì infatti ecco è bellino vedete bellino è bellino è carino è carino è carino questi contrasti di luce vi devo fare un po più in qua eccolo qui ok poi cos'altro ho preso abbiamo posto questo poi ho preso perché conto è venuto sui 70 euro allora tutte le volte che uno va a comprare dice sia a far la spesa sia per quanto riguarda il beauty scusate i capelli ma è una settimana che non li lavo c'è bisogno però avete visto come sono come sono ricresciuti i folti sono ricresciuti i folti è sì io il mio segreto è un incantesimo che ho fatto nel fiume secchia e quindi lo dico chiaramente perché in agosto io avevo la metà di questi capelli quindi vabbè allora quindi stavo dicendo tutte le volte che andiamo a fare la spesa e poi a questo punto diciamo ma com'è che il conto ci sorprende un po e a meno che non stiamo prima ad addizionare quello che spenderemo cosa che io di solito non faccio e diciamo ma cavolo ma ma cavolo perché cosa 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 ho preso poi però tornati a casa ho preso questo questo quello preso va beh ho preso questo qui che era in offerta questo questo azeta multiprotezione di solito uso il whitening tutta la serie dei whitening però ho visto che era un euro e qualcosa un euro mi sembra e 40 una cosa così poi vi saprò dire e quindi ho preso questa multiprotezione scudo proiettivo famiglia che va anche bene ecco con fuoro ecco che toglie lontana la carie ecco quindi vanno bene ogni tanto anche quelli normali così poi adesso io ho messo un po di rossetto ora per darmi un tono per fare il video appena entrata in macchina ma stamattina non ce l'avevo avevo messo soltanto questo qui sotto la mascherina perché non tinge anche se colorato questo labello non tinge sotto la mascherina e quindi l'ho preso un altro perché ho finito quello di prima adesso dal 10 dall 11 anzi non non ci sarà più l'obbligo delle mascherine all'aperto e io volentieri all'aperto naturalmente non la porterò poi cos'altro ho preso nelle bustine a parte mi mettono da cadiz le cosine un po più delicate cos'altro però io compro un po mi dimentico allora ho preso questo occhialicato ho preso questo primer face perfect debora perché ho finito quello con cui mi sono trovata molto bene adesso non mi viene il nome che costava poco ed era ed era carino non mi viene il nome e non era astra era un'altra marca ancora essence ecco ho finito quello della essence il primer della essence con cui mi sono trovata benissimo e invece è quello della max factor me lo tengo caro caro che mi sta per finire ho detto beh a questo punto ce ne vuole un altro perché due che avevo stanno per finire e ho preso questo qui la prima volta lo userò per la prima volta questo face primer della debora e penso che sia anche per gli occhi avevo comprato un primer per gli occhi adesso non ricordo la marca un periodo che soffro di amnesia che devo ricordare tante cose dobbiamo ricordare tanta roba e alcune di noi infatti passati gli anta prendono gli integratori per la memoria io non li prendo perché se la mia memoria è questa vuol dire che ho fatto il mio corso quello che ricordo bene quello che non ho questo vale anche sul lavoro ecco vale anche sul lavoro una mia una mia cara amica toscana e mi diceva che prende degli integratori per la memoria ecco anche le superato gli anta e io stavo pensando anch'io insomma quasi quasi di prendere però cerco di prendere meno integratori possibili nell'unico integratore che prendo è la melatonina e ho preso il fitofaner per i capelli fino a poco tempo fa però adesso non lo prendo più perché perché adesso non ho più bisogno non ho più bisogno se non mi viene una testa così va bene quindi ho fatto vedere questo poi ma sta registrando ah sì ah poi ho preso anche questa questa matita sono un po dal tonica e ne ho presa una blu tempo fa che però blu non mi ci trovavo molto bene allora ho chiesto alla signorina la commessa per favore mi guardi se è proprio nera se è proprio nera si si è proprio nera è proprio nera ok quindi ho preso questa robina qui che vi ho fatto vedere io ho speso su 70 euro però se calcolate che ha poi mandato anche la raccolta punti eccola qua la raccolta punti con dei punti io la faccio sempre la raccolta punti e dunque adesso non ho guardato è questa raccolta però di solito mi scalano mi fanno uno sconto mi fanno uno sconto abbastanza vistoso ecco raggiunti ho raggiunto un certo punteggio e però però a volte ho preso anche dei bei regalini sto guardando qua cosa c'è lo vi saprò dire dal 3 gennaio al 13 marzo 2022 allora quei punti che mi scadono a maggio mi fanno lo sconto e poi mandato i punti anche per questa raccolta qua che ci sono vedo presine tovaglie insomma roba di cui sinceramente io ho sempre bisogno non so voi ma io tra presine e tovaglie questa roba qua scusate qui la luce che non ultimamente problemi proprio in casa nel registrare col cellulare mi dispiace che il video dove mi truccavo coi prodotti chanel come tecnicamente è venuto veramente male tecnicamente per cui ne rifare un altro magari fare un'altra volta il make up chanel avevo dimenticato anche altri prodottini che ho quindi farò un video sennò mi trucco in macchina penso che la uscita migliore troppo macchina visto che in casa appunto ci sono problemi anche se se metto la ring light vengo troppo sparata se non metto la ring light vengo praticamente troppo scura allora poi correggo appena appena con movie maker e vengo scintillante quasi fosforescente come avete visto che non va bene allora lo scontrino spero di non aver dimenticato nulla ma come sta diventando lungo questo video perché poi volevo aggiungere a 8 minuti beh no non è lunghissimo non so se poi lo abbinerò a un weekly vlog perché ho comprato un aggeggio per fare la pizza come se fosse in pizzeria una specie di pietra di pietra che funge da forno che funge da forno e che funge da forno a legna insomma che va messa nel forno elettrico per 40 minuti con una pala anche e ho registrato qualche scena è un caro amico e che mi segue mio follower danni ciao che saluto mi ha detto sì sì fai vedere questa questa pietra e questa questa pizza alla pala insomma che mi interessa è perché l'avevo accennato in un altro video poi però un po con raffreddore un po col col lavoro un po con questo clima che c'è che c'è adesso guardate e poi dico la verità ho fatto la terza dose che mi ha steso completamente sono passati 15 giorni comincio a riprendermi oggi dico la verità sono sincera quindi io avrei deciso di terminare qui questo obbligo vaccinale per il lavoro che faccio l'anno prossimo me ne starò a casa oppure me ne vado in cima a una montagna dove abito io ci sono dei posti bellissimi incontaminati sul cerreto dove una camera costa poco nulla mi pago coi 200 300 euro di camera mi faccio il pane fatto in casa scenderò giù a valle per comprare qualcosina in più e me ne sto lì così non rischio il contagio con pochi soldi me ne vado lì e sto a posto che è il mio sogno l'unica cosa lì non c'è internet devo mettere internet è un po difficile cosa questi soldi che prenda internet quindi poi magari ogni tanto scendo a valle e carico i video ecco perché non voglio abbandonarvi neanche in tale situazione però il prossimo inverno ne vedrete delle belle ne vedrete le novità nella mia vita perché ho deciso di cambiarla in questo senso cioè di non sottostare più a doveri e obblighi che spengono che spengono la mia personalità e depressa non sono mai perché il mio carattere questo qua e ogni giorno quando mi alzo per me la cosa importante è non prendere e non prendere psicofarmaci o cose di quel tipo lì perché perché mi fanno innervosire di più su di me hanno un effetto alterante non si può dire alterante vabbè e quindi per me l'importante è non impazzire e non prendere appunto ora c'è gente che ha bisogno e le prenda pure su di me su di me fanno un effetto sconvolgente nel senso che vado ancora più fuori di testa quindi quindi per me l'importante è la salute mentale la salute mentale che poi sono un tipo eccentrico sono particolare ma questa è un'altra storia non possiamo essere tutti uguali però per me l'importante è mantenere quel tot di sanità mentale che mi possa far stare nella società civile tra virgolette sempre ok quindi mantenere la calma ho dovuto sottostare a obblighi e doveri in posizione in questo periodo che non avrei voluto però l'ho fatto per mantenere la calma per mantenere la calma e rimanere intellettualmente e psichicamente sana ecco e anche fisicamente vabbè tra raffreddore e terza dose e anche vaccini precedenti mi hanno mi hanno rovinato la salute sono sincera dico la verità ecco quindi ho notato dei peggioramenti anche nella mia salute e io sono devo dire sbaglierò non mi interessa non lo dovrei dire e pazienza lo dico ecco e mi sbaglierò e appunto non sono una dottoressa non capisco niente sono stati peggioramenti casuali non so cosa dire ecco però io ho deciso di terminare qui questa storia e cos'altro abbiamo il libero arbitro d'altra parte se uno poi decide di andare a vivere in cima alla montagna isolato da solo non fa del male né a se stesso né agli altri non si contagia né può contagiare io questo farò quindi mi vedrete vivere in solitudine il prossimo anno vedrete cose particolari della mia vita ho preso questa decisione e questa mi fa andare avanti ecco questa decisione mi fa andare avanti perché non si possono tradire le proprie convinzioni non si può essere violentati fisicamente e psicologicamente e vi prego nei commenti per favore di non scrivere commenti su questo ecco di non parlare di epidemia non parlare di vaccini perché li cancellerò perché non voglio che mi si chiude il canale va bene ecco per questi motivi come anche non parlo mai di politica nei miei canali proprio perché ci tengo su facebook invece sono più attiva in tal senso su facebook ne parlo perché se mi chiudono facebook non me ne importa niente però youtube ci tengo di più su youtube perché il primo il primo social i social più importante per me resta e resta youtube e le regole di youtube sono abbastanza severe ragazzi quindi io quando prima di caricare un video vado a guardare che non possa suscitare problemi nella sensibilità delle persone di non parlare di avvenimenti tragici di ora non posso neanche fare i nomi se no non mi fanno neanche caricare sto video insomma perché youtube è nata come una piattaforma commerciale è una piattaforma che deve dare allegria spensieratezza e positività ed è giustissimo così infatti io anche in questo sotterismo come sapete sempre rituali in positivo per migliorare la vita asmr ce la ridiamo scherziamo insieme eccetera e quindi su questo canale dove mi viene un po di più di mostrare le mie idee diciamo per quanto riguarda la società la politica eccetera potrei correre dei rischi e non voglio correrli perché per me youtube è molto importante perché youtube resterà sempre nella nella mia vita fino all'ultimo respiro della mia vita potrà capitare di non vedermi per un po per un po per problemi di vario tipo ecco però appena mi riprenderò tra una botosta e l'altra della vita mi rivedrete sempre quando poi non mi rivedete più vuol dire che sono passata oltre una dimensione migliore e sarò tranquilla e felice e voglio che siate tranquilli e felici anche voi per me ecco come si dice passare a miglior vita intanto il più tardi possibile perché voglio stare con voi e con chi mi vuole bene però ecco questo è il succo del discorso devo far vedere ringrazio tutti i nuovi iscritti che seguono questa folle youtuber grazie carissimi sono molto diversa dagli altri perché sono un po particolare come vedrete però sincera allora ho speso 82 82 non è 82 scusato sbagliato 62 avevo capito male avevo capito male e 62 ecco vedete il raffreddore ma ancora sono vecchie un po un po durate purtroppo non sento più molto bene 62 62 allora quindi i prezzi quali sono allora e l'isoform bagno mille mille non si mille sino che mille 1,99 con lo sconto di 50 di 50 centesimi quindi sull'euro e 50 e venus quindi doppio doppio lifting 11 e 90 o la total effect 15 e 90 quindi venus filler a fila antirughe 12 e 90 la bello 1 e 90 e le due cosi ne astra la matita 250 e poi cos'altro c'è dunque la tintura non so se anche se mi sto inquadrando la tintura excellence guardate pagata pochissimo 8 99 c'è lo sconto addirittura di 2 euro e 30 no no intanto io pensavo di aver pagato sui 70 invece no invece no vedete tutta questa robina qui l'ho pagata tutta questa robina l'ho pagata 62 62 83 va bene allora io vi saluto e vi saluto per ora non so se unirò se unirò questo questo video questo video ad altri ad altri spezzoni ad altri file benissimo quindi scusate la mia assenza ma io ci sarò sempre per voi baci ciao allora saltando le poste a pagare un bollettino e il mio paese è fatto di salite discese anche per questo è molto bello perché un paese di montagna e lo scenario molto bello però io ogni tanto bisogna bisogna che prendi una pausa allora credo che ci voglia il green pass credo credo adesso ora come ora allora me lo sono fatto mettere i miei figli sul praticamente sul desktop del cellulare così non ci sono problemi e magari cambio anche la mascherina metto la ffb2 così sono più protetta si sa mai e niente poi devo andare anche farmacia a prendere i fermenti lattici poi dovrei anche lavare la macchina comprare il pane dunque guarderò quello che riesco a fare dunque ed eccomi tornata a casa la giornata è splendida e ho comprato il pane allora ho preso dei panini al latte vedete questi che mi piacciono molto mi hanno chiesto grandi o piccoli ho detto grandi poi ho preso qualche qualche passante da mangiare anche col caffè nel pranzo o anche come me dal pomeriggio vedete questo qui vedete la pasta come come è fatta bene io sono stata anche in francia a parigi e devo dire che da questo panificio è questa qui al cioccolato e altri due questa qua che vuota però è ottima vedete faccio vedere questa specie di brioche e poi un altro cornetto ma mi piace chiamarlo croissant al cioccolato era rimasto poco come come pasticceria perché è tardi è luna per cui ho preso oltre ai panini che vi ho fatto vedere anche le ciabatte le ciabatte che praticamente la ciabatta è il mio pane preferito faccio vedere così ma sono anche sotto la luce perché è croccante croccante fuori vedete è morbido dentro bene allora vi saluto ah faccio vedere il mio cappottino di cappottino che mi ha fatto compagnia in questo blog questo cappottino a vestaglia che ho comprato qualche anno fa e ho messo poco devo dire poi vedete qui la manica l'ho allungata io è perché sarebbero le maniche a raglan alla sua cintura peccato che non posso farvelo vedere come si deve va bene magari qualche altra volta esco fuori ecco ecco vedete zara basic lo pagai 100 euro lo pagai 100 euro non so se si vede 100 avete tutto foderato è di stoffa di lana piuttosto pesante ed è com'è bello anche le sue tasche che ora qui non si vedono che riprese va bene che non si vedono momento è ecco la tasca che la tasca che non si vede lo stesso comunque va bene d'accordo allora è niente vi saluto quindi e vi ringrazio ciao ciao a tutti e a tutte ciao ciao